Salve a tutti, questo video mostra come potete importare una mappa dentro MapTool e mostrarla ai vostri giocatori. Potrete mostrare la mappa attraverso un monitor aggiuntivo se siete nella stessa stanza oppure attraverso un collegamento in videoconferenza se i vostri giocatori sono remoti. La finestra più in alto mostra quello che i giocatori potranno vedere della mappa, la finestra più in basso quello che vedrete voi come Dungeon Master. Il token presente sulla mappa rappresenta uno dei personaggi. La visibilità della mappa cambia a seconda della posizione del token. Andiamo ad incominciare. Per prima cosa abbiamo bisogno di una mappa. Oggi userò una delle mappe dal sito Dyson Logos. Scaricate la mappa seguendo il link che trovate in descrizione. Aprite la mappa con IrfanView o con un altro software che vi permetta di cambiare le dimensioni. Premete CTRL R per invocare il pannello di Resize Resample Image. Impostate la larghezza a 1750. L'altezza cambierà di conseguenza. Premete OK Poi premete CTRL S per salvare la mappa con un nuovo nome. Di solito aggiungo un'estensione al nome per ricordarmi la larghezza. In questo caso 1750V. A questo punto fate partire MapTool. Dal menu Map scegliete la voce New Map. Nel pannello delle Map Properties impostate Name e Display Name a M001 la Tana. E' buona norma avere un nome che inizi per una lettera perché alcune estensioni di MapTool potrebbero avere problemi altrimenti. E' anche da buona norma inserire un numero progressivo dopo la lettera in modo che le mappe siano ordinate nel menu a tendina della selezione delle mappe. Lasciate 5 come Distance Per Cell se volete che le misure siano in piedi o inserite 1.5 se volete che le misure siano in metri. Alla voce Pixel Per Cell inserite 70 come dimensione della casella. Lasciate le voci Vision Distance a 1000 e AI Cell Rounding a None. Alla voce Lights selezionate Night. Cliccate OK. Dal menu Map selezionate la voce Fog of War. Dal menu dei Layers a destra selezionate il Layer Background. Prendete l'immagine che avete ridimensionato e trascinatela nello spazio centrale di MapTool. Selezionate il Layer Token per evitare di manipolare inavvertitamente la mappa. Prendete CTRL G per mostrare la griglia ed assicurarvi che la mappa sia correttamente allineata alla griglia. Prendete nuovamente CTRL G per far sparire la griglia. Cliccate sul Visual Blocking Layer Tools e poi su Draw a Rectangular VBL Tool. Assicuratevi che le icone W e M siano selezionate. Fate zoom out della mappa usando la rotellina del mouse fino a quando l'intera mappa non sia visibile nella sezione centrale. Posizionate il mouse in alto a sinistra della mappa Prendete il pulsante sinistro e trascinate il mouse fino a coprire l'intera mappa. Prendete di nuovo il pulsante sinistro. La mappa verrà a questo punto coperta dal Visual Blocking Layer di colore porpora. Assicuratevi di coprire uno spazio leggermente superiore alla mappa. Usando la rotellina del mouse ingradite la mappa in modo che le stanze siano visibili. Tenendo premuto il pulsante destro potete trascinare la mappa nella posizione che volete. A questo punto posizionate il mouse sull'angolo in alto a sinistra di una delle stanze. Premete il tasto Shift e cliccate sul pulsante sinistro. Trascinate il mouse fino all'angolo in basso a destra della stanza e cliccate nuovamente il pulsante sinistro. La stanza a questo punto diventa bianca perché avete eliminato il corrispondente Visual Blocking Layer. Ripetete l'operazione per tutte le stanze rettangolari avendo cura di lasciare un piccolo spazio per rappresentare le porte chiuse. Questo è il risultato che dovreste ottenere alla fine dell'operazione. Come potete vedere ho trascurato alcune parti che non sono rettangolari. In questo caso potete eliminare il Visual Blocking Layer utilizzando il tool Draw a Closed Polygon VBL. Cliccate sul tool Draw a Closed Polygon VBL. Posizionate il mouse su uno dei vertici dell'area non rettangolare. Tenendo premuto il tasto Shift premete il pulsante sinistro e spostate il mouse verso uno degli altri vertici. Come potete vedere viene disegnata una linea bianca. Potete aggiungere punti intermedi utilizzando il pulsante centrale del mouse e chiedere che il poligono sia chiuso premendo di nuovo il pulsante sinistro. Ripetete l'operazione per tutte le aree che sono rimaste. A questo punto selezionate Interaction Tools dalla Toolbar. Dalla Library cliccate su Default e poi su Tokens. Prendete il token Mage e trascinatelo sulla mappa. Doppio cliccate sul token selezionate il tab Config cliccate sul checkbox Has Site e selezionate la voce Normal. Dal menu a tenere in alto a destra cambiate le istituzioni da MPC a PC. Cliccate OK. Cliccate col pulsante destro sul token e dal menu Light Sources selezionate la voce D20 e poi Torch. Dal menu File cliccate la voce Start Server Impostate lo username a Master e selezionate il ruolo come GM. Lasciate la porta 51234 e assicuratevi che UseMopTool EasyConnect sia selezionato. Cliccate OK. A questo punto lanciate una seconda istanza di MapTool. Questa sarà l'istanza che userete per mostrare la mappa ai vostri giocatori. Dal menu File della nuova istanza selezionate la voce Connect to Server. Inserite PlayerOne come nome utente e assicuratevi che Connect Using Public Key sia selezionato. Selezionate il tab Direct e impostate 127.0.0.1 come address e 51234 come port. Cliccate su OK. riceverete un pop-up che dice Sending Public Key to Server let the GM know your pin is 9634 so they can approve your connection. Il numero che vedrete nel vostro pop-up sarà diverso naturalmente. Tornate all'istanza di MapTool su cui avete caricato la mappa. cliccate su Windows Connections e poi andate su Pending. Cliccate su Approve per la voce PlayerOne assicuratevi che GM non sia selezionato. Nella chat comparirà il messaggio PlayerOne has connected. Doppio cliccate sul token cliccate sul tab Ownership e date l'ownership del token all'utente PlayerOne. Selezionate il token e premete CTRL-I questo rivela la parte della mappa che è visibile a questo token. Premete anche CTRL-E e poi CTRL-F per centrare l'altra mappa sulla vista che voi avete in questo momento. Tornate all'istanza del giocatore. Come potrete vedere la vista dei giocatori è ristretta rispetto a quella che avete voi come master. Muovendo il token i giocatori possono vedere le diverse parti della mappa. Potete a questo punto spostare questa mappa su un secondo monitor che i vostri giocatori vedranno oppure condividerla attraverso un software di videoconferenza nel caso in cui i vostri giocatori siano remoti. E con questo è tutto per oggi. Se avete delle domande lasciatele pure nei commenti.